Come curatore e direttore di Identità Golosa posso essere solo soddisfatto della giornata di oggi. Siamo riusciti a mettere intorno alla stessa tavola una ventina di figure di tutte le espressioni della cucina italiana e tanti giornalisti da ascoltarli. Il tema era il no show, come combattolo, come affrontarlo, cioè qualcosa di concreto e non solo parlare, parlare e basta. Grazie a tutti.